Io stiamo qui con il nino Marcello Marchetta, la nuova incorporazione del Napoli. Che sta gravando? Il nino Marcello, che pensa circa della situazione? È un momento difficile perché tutti gli insultano, mi presenza. Io sto tranquillo perché io sono una buona persona. Se l'ho visto il sabato con una bella ragazza in un hotel allociamento, e nel cammino del cintura, che risposta ci puoi dare a questo? No, no, di paparazzi, mentira, devo mentirare. Grazie a tutti, nino.